segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te è chiaro che oggi l'ucraina sta per varie ragioni in una posizione di forza no perché questo mandato di cattura internazionale per quanto un po possa essere sancisce una debolezza sul piano internazionale ma anche sul piano interno perché evidentemente gli verrà meno un po di sostegno di tutta la cerchia ristretta degli oligarchi appute ne è diventata ancor più impresentabile ed è una persona che sulla carta potrebbe essere arrestato dopodomani 123 paesi che hanno ratificato lo stato però io adesso voglio dire una cosa